Ciao a tutti ragazzi qui dal vostro TheWalk In questo video di oggi andremo a giocare delle partite pubbliche Con la speranza di trovare qualche italiano E infatti ragazzi abbiamo trovato una ragazza italiana Prima di iniziare il video vi invito soprattutto ad usare il codice creatore TheWalk23 nell'item shop Di lasciare like e iscrivervi a questo canale Vi ringrazio tutti coloro che hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto Grazie, grazie mille E si parte Ciao Ciao Lei è italiana? Eh, perfettissima, diciamo proprio dal nome c'è Ma, ragazzi abbiamo incontrato una ragazza Di dove è lei? Eh, tipo, sono di Sicilia Sicilia Eh, infatti, posso chiedere di dov'è? Io sono di Naples Oh, molto interessante Interessante, molto interessante Dove vuoi atterrare? Decidi Vabbè, eh, infatti andiamo là Eh, infatti No, ma è un piacere mio conoscerti È raro trovare italiani, eh Italiani soprattutto Perché sei ragazza, vedo Ti educo Eh, sì, difatti sì Vai, ci mangiamo tutta la lobby Oh, è certo Ti senti sicura? Vai, vogliamo vincere Eh, difatti sì Assolutamente Ah Se no, al caso, ce ne giochiamo un'altra Con chi è? Allora, se te non sai, io faccio video su YouTube Se per te non è un problema Ah, va bene, infatti mi stavo chiedendo con chi parlavi Eh, difatti No, ma stavo parlando con te Come te ne sei fatta accorgere? Non lo so Sì, ma parlavi con me Cos'è vero con me? Giusto sull'isola di prima Avrei sentito Esatto Nel frattempo Oh Come si chiama lei? Allora, io mi chiamo Esatto Si legge dal nome Eh, difatti è vero E lei, tipo Posso chiedere? Gino Ah, ma si chiama Gino? Non ti chiami, senti come nome No, no In realtà Mauro mi chiamo, dai Non voglio trollarti Stavo cercando gente da trollare Ma ho incontrato te Mi sembri molto Cioè, carina e non voglio trollarti Ma grazie No, no, raga Non prendo in giro le ragazze In carità Ma lei quanti anni ha? Se posso chiedere Allora, io ho una 17 Uh, c'è qualcuno Mi stava trollando inizialmente Non è un bot? Sì, ho capito Metta, mette, è one Arriva il compagno Ok, io c'ho capito Metta, metta, mette Ma chi lato No Vai, vai Ce ne facciamo un'altra Eh, va bene E ragazzi Rieccoci con Sara Secondo round Esatto Con la signora Sara Ormai già mi sta tantissimo a cuore No Molto, molto Te signora Sara sto simpatico, credo, no? Ma certo Ma moltissimo Eh, no Perché? Cioè, mentre no Boh Cioè Perché? Aiuto Ma, ma ti sto simpatico O ti sto sulle p... Anche se non ce l'hai Eh? E certo che non ce l'ho Cioè Cioè Raga, che argomento Capito Allora, prima Lei dove vuole andare? No, io ti stavo simpatico Però mi hai gostato malissimo, eh Eh, di fatto è vero Mi scusi Allora Mi prendi in giro No, veramente, no Mi ti prendo in giro Bene Non tutti siamo simpatici, dai Purtroppo la vita No, non ti preoccupare Stavo scherzando, sinceramente Ah, mi stai prendendo in giro, allora Esatto Raga, ma tu quando è furba, però, eh? Furba la ragazza Moltissimo Difatti Oh, oh No, 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 no Già gente, eh? Cavolo, cavolo, cavolo Ma ce ne riusciamo a giocare una bene, ma tu? Non credo Ok, arrivo, sì Eh, non c'ero Difatti alla Sono due Pompa Ok, una ammazzata L'altra col pompa non me la so dove è andata Vicente da me se riesce a venire Quanti sono? Aspetta Ma uno se non erro Uno l'ho ammazzata Ce la fai? Allora, gli prendi le pompe e arrivo subito Ok, 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 ok Cavolo, cavolo Ah, ok, sì, molto importante Uno da me, uno da me Arrivo, io mi sono bloccata Ah, no, ok Allora, se non mi so io, sì Sì, sinceramente non me lo ricordo, ma penso di sì Buona mia Ti devo fare Perché sennò sono una che guarda troppo in me Però alcuni ne conosco No, proprio tutti e tutti Bomba Maranza lo conosci? Sinceramente no, è esatto così Ma c'è pompa Maranza? Almeno sai cosa sono in Maranza? Certo che so cosa sono in Maranza Certo, questo lo so Sono davanti a noi Ah, sono due Ce li busciamo? Certo Uno lo sto ammazzando Nell'acqua Bravissimo Attenzione Grazie Ma prego Ma grazie Ma prego Ma grazie Ma prego Attenzione Guarda, le so simpatico Anche lei Un botto Infatti a lei mi sta un botto Ma un botto simpatico Veramente Così mi fai emozionare però Eh, vabbè Capito Mi fai molto emozionare Che senso capita? L'emozione capita a casa Eh, di fatti sì Vabbè, sì Ah, ci sono i bot Che sono Sponati Posso chiamarli Maranza Qui Lato? Dov'è? Ah, l'hai ammazzata? C'è il compagno C'è il compagno Siamo così a 50 Te lo dico La gente va a chillare anche il compagno Sì, certo Ok, qui Primo già ce lo siamo chillati Eh, di fatti sì Il secondo Ah, eccolo Dov'è? 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 Oh, buavissima Attenzione Mui sei molto fortissima Hai fattolo dire Ma già, che tu Tipo fortissima sei Più di me Questo te lo posso dire No, non ci siamo ancora sfidati Però magari Se lo vogliono Sotto i commenti ragazzi La sfidiamo eh Vabbè, è un piacere Vediamo come gioca Sara In 1v1 Ecco, è un piacere Vabbè Se a lei fa piacere ora, non lo so Sì, mi fa piacere Allora a posto Ti dico? Oh, so good Ci siamo bloccati Andiamo in safe? Andiamo, andiamo, andiamo Vai altri 45 Eh sì Dai che dobbiamo vincere E' un botto Tranquilla Ma dov'è? Ah Come è sull'albero? Mi sono bloccato sull'albero Dove aspetta? Ah ma Per tutta la partita Ma no Cioè, ragazzi Questo da quando è atterrato sull'albero Lo stava camperando lui sull'albero Aspetta Ma proprio Cioè, è stato fino ai 41 player Ma io non ci credo Cioè Cioè, mi aspetta Mi sta molto simpatica a lei Molto Ma anche lei Cioè, tipo non Posso mandarle la richiesta d'amicizia Così magari Ma certo Ovviamente Sì, certo Con piacere C'ho un lama davanti a lei Esatto Non me l'avevo accorta Dove è il cannone? Ah, eccole Ura Ma te da che si sono giochi? Non te l'ho ancora chiesto Ah, ecco Te l'ho ancora chiesto Infatti Io ti credo alla stagione 8 Più o meno Sì, sono uno Wow Prima giocavo su mobile Lui sei stato bellissimo A giocare alla stagione 1 Tantissimo Mi manca Eh, capisco Capisco A me di forza Mi manca la stagione 8 Era molto bello Quella con i pirati Se ti ricordi Ah, quella dove c'era bananita Esatto Dove c'era Il posto di bananita Tutto Eh, quella lì era Quella mia preferita Sì, sì, sì Con le girosfere Eh, difatti Sì, veramente c'ho tanti ricordi Di quella stagione È veramente bello Anzi, era bellissimo Anche la mia preferita Ti devo dire Sei attento Un gran B1 Ok, uno sotto Poca vita Dov'è? Ce la fai? Penso Attenta che si cura Grande Fatto Si riesce a prendermi la scheda Certo Tanta roba Ragazzi, ha carriato malissimo La Sara Si riesce ad andarmi a curare Tanta roba comunque Prima che si chiude la safe Se non sbaglio Il punto di riavvio Sta 253 Oh, tutto storico Ok, ce la fa curarmi? Certo Giusto, c'è anche il robot per curarti No I gesti sono proprio successi Maggio che si stacca verso la fine No Cioè, diciamo un po' I gesti che non mi vuole bene In questi giorni, quindi Trovate un pompa Splash Uh, bene, bene Pomba amaranza Anche Non ho capito del pompa di Mavanza Cioè, pompa amaranza Non possiamo andarci così Tipo di qualcosa Ah, comunque Devo mi dare qualcosa Ma grazie Ma prego Così, regà Mi regala la corona Eh, difatti, sì Doveva essere tua No Hai carriato dall'inizio, eh No, dai Io ho esso gentile con la gente, quindi Grazie mille della corona Ma prego Te la merita Serve un assalto a me Se riusciamo a trovarlo Eh, se mi è titolo a mia No, no Se serve a te Presco che lo tieni te Va bene DMR Grazie Fa anche male Un assalto No, ancora non fa sempre di uno Non fa tanto male Ma te c'è il robo Per curarci Eh, difatti Ah, davanti Spararlo Se no poi ti rompe le balle Uh Madò Ci stai morendo male però, eh Eh sì È la sola Sì, è la sola Sono caduto Cavoli Dai, dai Ce la fa Attento Voi che ce la fai Vuoi curarmi Cavolo Bravissimo Mamma mia La faccio a curarti Vieni, vieni, vieni Hai bisogno di materiali? Vieni più dietro No Riesco a curare almeno Eh, penso di sì Tanto è qui Quindi Tanto che non mi killano Ok, fatto Ora scappo Ok, hai preso delle armi Vabbè, tanto adesso me lo prendo Senti Ho trovato un'arma Ma grazie Intenta che stano quelli Molto cattivi Comunque, prendiamoci questo Come l'ho salvata Esatto Lui è veramente bravissimo, eh Mamma mia Sì Grazie, grazie Prego Grazie, la safe Attenzione Cavolo, la safe Madwe год Non c'è nemmeno più assalto Ui, no, no No, 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 no No, 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 no Mamma mia Tu hai compagno? Lo vedo Lo vedo Ce la fai? Credo di sì, non lo so C'è poca vita Tenda lei, eh Vi scenei di... Ma che lato, ma che lato? No, mi ha ammazzato Sizione 2, per poco Ma, per poco Vabbè, però io vorrei messo a un piacere Bella partita, raga Ho perso la sua richiesta d'amicizia No, raga, era un botto simpatica Spera, fammi andare sui giocatori recenti Vado a vedere i replay e vedo se riesco a ritrovare il suo nome Perché, raga, assolutamente devo rialdarla Era stra, stra simpatica Anche se non abbiamo vinto Comunque mi sono divertito E la ragazza è stata davvero simpatica Giocava bene Ho ritrovato il nome della ragazza Finalmente, quindi andrò ad aggiungerla Speriamo che mi accetta subito, immediatamente Ed entra in lobby Mi ha accettata subito Direi subito di invitarla, raga Vediamo se entra Salve Ehi là Avevo perso il tuo nome Eh, non fa nulla, dai Anche lei fa Non si Allora, innanzitutto Nonostante l'abbiamo persa Secondo lei Quanti like dobbiamo raggiungere in questo video? Vai, lascio decidere a lei Facciamo 15.000 15.000? Che casino Vabbè, vabbè Se ce la facciamo Non lo so 15.000 Se mi sta simpatica Non lo so Probabilmente È impossibile Perché Quei numeri Sono impossibili Attualmente sul canale Però, raga Contendiamola, dai Aspetta Sempre Codice Creatore De Volcan 3 Nella Time Shop Esatto Quindi Dare di chiudere il video qua Datevolcan 3 Peace Alla prossima Sì 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 Grazie.